Papa Francesco, Udienza Generale, 13 ottobre 2021, Catechesi sulla lettera e Galati, la libertà cristiana, fermento universale di liberazione. Nel nostro itinerario di Catechesi sulla lettera e Galati, abbiamo potuto mettere a fuoco qual è, per San Paolo, il nucleo centrale della libertà, il fatto che, con la morte e risurrezione di Gesù Cristo, siamo stati liberati dalla scavitù del peccato e della morte. In altri termini, siamo liberi, perché siamo stati liberati, liberati per grazia, non per pagamento, liberati dall'amore, che diventa la legge somma e nuova della vita cristiana. L'amore. Noi siamo liberi, perché siamo stati liberati gratuitamente. Questo è appunto il punto chiave. Oggi vorrei sottolineare come questa novità di vita ci apra ad accogliere ogni popolo e cultura, e nello stesso tempo, apra ogni popolo e cultura a una libertà più grande. San Paolo, infatti, dice che, per chi aderisce a Cristo, non conta più essere giudeo o pagano. Conta solo la fede che si rende operosa per mezzo della carità. Credere che siamo stati liberati e credere in Gesù Cristo che ci ha liberati. Questa è la fede operosa per la carità. I detrattori di Paolo, questi fondamentalisti che erano arrivati lì, lo attaccavano per questa novità, sostenendo che egli avesse preso questa posizione per opportunismo pastorale, cioè per piacere a tutti, minimizzando le esigenze ricevute dalla sua più stretta tradizione religiosa. E' lo stesso discorso dei fondamentalisti d'oggi. La storia si ripete sempre. Come si vede, la critica nei confronti di ogni novità evangelica non è solo dei nostri giorni, ma ha una lunga storia alle spalle. Paolo, comunque, non rimane in silenzio. Risponde con paressia. È una parola greca che indica coraggio, forza, e dice, è forse il consenso degli uomini che cerco, oppure quello di Dio. O cerco di piacere agli uomini. Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Già nella sua prima lettera ai tessalonicesi si era espresso in termini simili, dicendo che nella sua predicazione non aveva mai usato parole di adulazione, ne ha avuto intenzione di cupidigia, e neppure cercato la gloria umana, che sono le strade del far finta di, una fede che non è fede, è mondanità. Il pensiero di Paolo si mostra ancora una volta di una profondità ispirata. Accogliere la fede comporta per lui rinunciare non al cuore delle culture e delle tradizioni, Ma solo a ciò che può ostacolare la novità e la purezza del Vangelo, perché la libertà, ottenutaci dalla morte e risurrezione del Signore, non entra in conflitto con le culture, con le tradizioni che abbiamo ricevuto, ma, anzi, immette in esse una libertà nuova, una novità liberante, quella del Vangelo. La liberazione, ottenuta con il battesimo, infatti, ci permette di acquisire la piena dignità di figli di Dio, cosicché, mentre rimaniamo ben innestati nelle nostre radici culturali, al tempo stesso ci apriamo all'universalismo della fede, che entra in ogni cultura, ne riconosce i germi di verità presenti, e li sviluppa portando a pienezza il bene contenuto in esse. Accettare che noi siamo stati liberati da Cristo, la sua passione, la sua morte, la sua resurrezione, e accettare e portare la pienezza anche alle diverse tradizioni di ogni popolo, la vera pienezza. Nella chiamata alla libertà scopriamo il vero senso dell'inculturazione del Vangelo. Qual è questo vero senso? Essere capaci di annunciare la buona notizia di Cristo Salvatore, rispettando ciò che di buono e di vero esiste nelle culture. Non è una cosa facile, sono tante le tentazioni di voler imporre il proprio modello di vita come se fosse il più evoluto e il più appetibile. Quanti errori sono stati compiuti nella storia dell'evangelizzazione, volendo imporre un solo modello culturale. La uniformità, come regola di vita, non è cristiano. L'unità sì, l'uniformità no. A volte non si è rinunciato neppure alla violenza, pur di far prevalere il proprio punto di vista. Pensiamo alle guerre. In questo modo si è privata la chiesa della ricchezza di tante espressioni locali che portano con sé la tradizione culturale di intere popolazioni. Ma questo è l'esatto contrario della libertà cristiana. Per esempio, mi viene in mente quando si è affermato il modo di fare apostolato in Cina con padre Ricci, o nell'India con padre De Nobili. Qualcuno diceva, e no, questo non è cristiano. Sì, è cristiano, sta nella cultura del popolo. Insomma, la visione della libertà propria di Paolo è tutta illuminata e fecondata dal mistero di Cristo, che nella sua incarnazione, ricorda il concilio Vaticano II, se unito in un certo modo ad ogni uomo. E questo vuol dire che non c'è uniformità, c'è invece la varietà, ma varietà unita. Da qui deriva il dovere di rispettare la provenienza culturale di ogni persona, inserendola in uno spazio di libertà che non sia ristretto da alcuna imposizione, dettata da una sola cultura predominante. E questo, il senso di dirci cattolici, di parlare di chiesa cattolica, non è una denominazione sociologica per distinguerci da altri cristiani. Cattolico è un aggettivo che significa universale. La cattolicità, la universalità. Chiesa universale, cioè cattolica, vuol dire, vuol dire che la chiesa ha in sé, nella sua stessa natura, l'apertura a tutti i popoli e le culture di ogni tempo, perché Cristo è nato, morto e risorto per tutti. La cultura, d'altronde, è per sua stessa natura in continua trasformazione. Si pensi a come siamo chiamati ad annunciare il Vangelo in questo momento storico di grande cambiamento culturale, dove una tecnologia sempre più avanzata sembra avere il predominio. Se dovessimo pretendere di parlare della fede come si faceva nei secoli passati, rischeremmo di non essere più compresi dalle nuove generazioni. La libertà della fede cristiana, la libertà cristiana, non indica una visione statica della vita e della cultura, ma una visione dinamica, una visione dinamica anche della tradizione. La tradizione cresce, ma sempre con la stessa natura. Non pretendiamo, pertanto, di avere il permesso della libertà. Abbiamo ricevuto un dono da custodire, ed è piuttosto la libertà che chiede a ciascuno di essere in un costante cammino, orientati verso la sua pienezza. E' la condizione di pellegrini, e lo stato di viandanti, in un continuo esodo, liberati dalla schiavitù per camminare verso la pienezza della libertà. E questo è il grande dono che ci ha dato Gesù Cristo. Il Signore ci ha liberato dalla schiavitù gratuitamente, e ci ha messo sulla strada per camminare nella piena libertà.